Ciao a tutti, io sono Eleonora e mi sono diplomata nel 2019 presso l'Istituto Grandis di Cuneo. Ho frequentato l'indirizzo tecnico-turistico, dove si studiano tre lingue, l'inglese, il francese e il tedesco, e poi ovviamente si studiano altre materie inerenti al turismo, come per esempio arte e geografia. Io sono molto contenta della scelta che ho fatto, perché questo indirizzo mi ha dato la possibilità di avere delle buone basi per poi poter continuare il mio percorso sempre inerente al turismo, infatti così l'ho fatto. Sono una studentessa dell'Università di Torino, studio a lingue e culture per il turismo e le lingue che studio sono spagnolo e inglese. Ci tengo davvero a consigliare il Grandis, in particolare questo indirizzo che è quello che ho frequentato io, perché dà davvero delle buone basi delle lingue che trovo siano fondamentali al giorno d'oggi. Ognuno di noi dovrebbe almeno conoscere due lingue, almeno, questo è il mio parere. Però sono molto contenta, sono sincera, devo dire che anche i professori che ho avuto sono sempre stati professori molto validi, che mi hanno aiutata e spronata ad andare avanti anche nei momenti in cui mi buttavo giù e in cui ero in difficoltà. E trovo che comunque quando si deve fare una scelta così importante, quando devi scegliere che cosa fare, cosa non fare, cosa studiare, sia molto importante avere un ambiente intorno che ti faccia sentire, diciamo, a tuo agio e che quindi ti sproni a studiare e a migliorare le tue capacità.